Matti Costruzioni Dal 1958 immobili di pregio in Oltre Popavese e nella Riviera Ligure Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio Ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5 Mostre, teatro e musica Quali sono stati gli appuntamenti più importanti e soddisfacenti di questi primi sei mesi di programmazione? Diciamo che Voghera è quest'anno, ha avuto una grossa soddisfazione e un'ottima frequentazione Parliamo per esempio nella commemorazione dell'8 marzo Abbiamo anticipato leggermente i tempi su sabato 4 marzo Un'esposizione di sette artiste Quindi l'arte all'insegna della femminilità Tutto e per tutto Madrina della manifestazione Maria Elisa Lusardi E nell'occasione si è assegnato il premio Donne per la solidarietà Che è nominato ad Alida Stringa E' stato assegnato alla dottoressa Cristiana Barbieri Per l'opera pluridecennale Che ha svolto nei confronti della popolazione Questo è stato un periodo nettamente favorevole a questo scambio E da un'esaltazione della femminilità In tutte le espressioni non solo di arte ma nel sociale Nella nostra terra A seguire possiamo dire che uno degli eventi più importanti Da punto di vista artistico è stato Trasparenze Una mostra dell'artista del vetro La cosiddetta fratrizia al secolo Patrizia Brancaleone Una master dell'arte del vetro perché è iniziato nel 1986 Opere che spaziano dal mosaico classico Alla scultura, agli specchi, alle suppellettili E ai complimenti d'arredo Questa mostra ha impegnato la galleria di Voguerraè Nelle giornate dell'ascensione E si è sovrapposta ad altri eventi Tra cui uno degli eventi a chiusura e un po' fuori tempo all'assenza È stato un concerto Il concerto che ha dato il battesimo Dell'associazione La Parrocchia del Blues Con nostra soddisfazione e con il giardino pieno Abbiamo accolto un duo di chitarra, armonica e voce I Delta Junkmen Che hanno presentato il loro nuovo album In questa chiave blues tradizionale E ci ha portato ad avere una porta aperta Anche verso questo filone musicale Che ancora da noi era inusitato Segnaliamo inoltre Durante il periodo Alcuni altri spettacoli Organizzati da altre realtà attive nel nostro territorio Marco Liva rappresenta la compagnia teatrale Oltre un Po' E abbiamo spettato lo spettacolo Resistenze Uno spettacolo che dalla tradizione Della commemorazione della resistenza italiana Ha portato sul palco Realtà di resistenza attuali E confrontabili ma sostanzialmente diverse Dalle resistenze che normalmente vengono commemorate in quella data Aggiungiamo inoltre un'altra partecipazione molto importante Della corale polifonica a Gavina Che durante la serata del 13 maggio Ha fatto un concerto lezione sulla cavalleria rusticana di Mascagni Siamo molto soddisfatti anche di questo Perché abbiamo capito che anche in questo caso La nostra funzione è una funzione divulgativa Si crea curiosità verso questi eventi E si tende ad approfondire anche dei campi Finora non esplorati da molti Questa cosa ci rende molto orgogliosi Sempre dal punto di vista dello spettacolo Passiamo una nota un po' semiseria Anzi no, per niente seria Abbiamo la compagnia Under Teatro Che è presentato tra il sacco e il propano Una serata E anche qui per nostra soddisfazione È giovane, molto giovane Sia per i partecipanti, per i protagonisti E per il pubblico Che ha creato la comicità e la rita In una serata passata in armonia con tutti Ha portato saputo anche un sacco di pubblico giovane In questo giardino Certamente Si pensa a volte che la cultura Abbia un target Predefinito d'età Ma di fatto Una volta che gli stimoli sono partiti Possiamo affermare Che poi alla fine Chi viene toccato in qualche modo Viene toccato al di là dell'età La cultura c'è per tutte le età Vorrei concludere con una serata Dedicata al nostro socio sostenitore Che è Piero Milanesi Una serata biografica Che ha Dato la prospettiva a tutti Una serata tra amici Che hanno accompagnato parte O interamente la propria carriera Accompagnata da Alessandra Genola E dal figlio Riccardo Una serata emozionante Intensa Fatta di tanti Di tanti pezzi di opere Nella lunga carriera Del nostro cantautore nostrano Tema teatrale Musicale A livello di mostre Quali sono gli obiettivi Per i prossimi mesi Del 2017 Nel 2017 La connotazione Che è stata predominante È stata l'apertura Cioè abbiamo tanti artisti Che vogliono collaborare con noi Vogliono collaborare con noi E secondo Il nostro parere L'importante È creare un filone E non addensare Troppo gli eventi Per evitare Che poi gli stessi Non vengano frequentati Oppure non gli sia data Abbastanza attenzione L'intenzione è quella Di Abbiamo aperto Dei canali di comunicazione Dei canali di collaborazione E la nostra intenzione È di mettere a disposizione Questa associazione Per continuare In maniera intensa E decisa Questa opera Di divulgazione E soprattutto Di associazione tra persone Perché Uno dei primi scopi Dell'associazione È quello di far incontrare Le persone E se si incontrano Per passioni comuni Secondo me È una cosa E non so Secondo me È una cosa più che positiva Di questi 26 eventi totali 11 sono stati dedicati Al mondo della letteratura Quali sono stati Gli eventi più importanti E più soddisfacenti Per Voguerè Quindi 11 libri Presentati A volte su richiesta Degli autori A volte su invito nostro E vorrei far notare Un po' La duplice tendenza Di questo percorso Un profondo radicamento Nel territorio E Contemporaneamente L'apertura Ad una dimensione Più ampia Nazionale Quindi già il primo evento È stato in questo senso Molto significativo Secondo me Vabbè Per la Befana Un evento per i bambini E noi riteniamo Che i bambini giovani Debbano essere sempre Al centro dell'attenzione Di una città Il primo evento È stato la presentazione Appunto del piccolo principe Di Saint-Exupéry Quindi un capolavoro Della letteratura europea Tradotto in dialetto vogherese Quindi in una realtà Profondamente nostra E così abbiamo proseguito Su questo duplice percorso Abbiamo presentato Autori vogheresi Quindi Michiorione Marcello Poggi Il nostro giallista Lucio Figini Ecco tutti questi autori Colgo l'occasione Per dire che verranno Ripresentati a Brallo Nel corso dell'estate Accanto a loro però Ci sono stati autori Soprattutto autrici Ma è un caso Cioè ospitiamo Tante donne Ma non è una scelta A priori Abbiamo incontrato Cinzia Sasso Che ha raccontato La sua storia Di passaggio Da giornalista Di livello nazionale A moglie Del sindaco di Milano Ex ormai Giuliano Pisappia E abbiamo incontrato Soprattutto E che io ci tengo Molto a sottolineare Un po' gli ultimi eventi Uno legato All'ascensione L'altro immediatamente Successivo Perché abbiamo incontrato Due donne Veramente straordinarie Anche oltre La loro realtà Di scrittrici E una È Maria Giovanna Luini Che non è Un medico Con lobby della scrittura Ma è una scrittrice Che fa il medico Io l'ho conosciuta Anche come paziente Diciamo quindi Ho avuto la fortuna Di essere curata Da lei Ed è una persona Veramente straordinaria Collaboratrice stretta Di Veronesi Ma molto aperta Anche ad una dimensione Olistica Della medicina E oltre a tutto questo Scrive romanzi Ed ha presentato A noi appunto Il suo bellissimo romanzo La luce che brilla Sui tetti Parzialmente autobiografico Ma con una rielaborazione E posso annunciare Che l'aspettiamo Probabilmente Per il prossimo Nell'occasione Del prossimo mese di marzo Della festa della donna Per parlare proprio Della sua storia Di collaborazione Con Umberto Veronesi L'altro libro Appunto Che mi è sembrato Interessantissimo Al di là Del veramente L'alta statura Letteraria Della scrittrice Non volevo morire Vergine Di Barbara Garlaschelli Che affronta Un tema Delicatissimo Quale Eros e disabilità Un tema Ben poco Affrontato E che lei riesce Ad affrontare Con grandissima sensibilità Ma nello stesso tempo Con grande ironia Grande senso Dell'umorismo Affiancata Da questo marito Abilissimo In tutto Nella gestione Anche di quello Che è stato Un vero e proprio Spettacolo Un vero e proprio Reading Niente Quindi Tanti bellissimi libri Tanti autori Molto interessanti E il percorso Continuerà Naturalmente Appunto Quali sono gli obiettivi Della seconda metà Dell'anno Ma sicuramente Presenteremo Nuovi volumi Però Come anticipazione Posso dire Che aspettiamo Gli autori Di Sdiario Quindi È un blog Piuttosto famoso Di cui fa parte Appunto Barbara Garlaschelli Di cui fa parte Viviana Gabrini Che è stata Molto presente In queste ultime Due presentazioni E altri scrittori Di livello nazionale Appunto Hanno scritto Una raccolta Di racconti Che verranno A presentare Poi ecco Una cosa A cui tengo Particolarmente Il secondo Reading Di poesia Contemporanea Il 10 settembre Ci saranno Autori Anche locali Comunque Lombardi E piemontesi Ma Di livello nazionale Che sono stati Entrati In un'antologia Della letteratura italiana E Saranno preceduti Da un'ora Di microfono aperto Per i poeti Dilettanti Diciamo Lugherè In questi mesi Si è dedicata Anche all'approfondimento Tanti temi trattati Qual è l'obiettivo? Sostanzialmente Quello di valorizzare Le personalità Le competenze Vogheresi Sotto tutti gli aspetti Della cultura Moderna Dal cinema L'amico Umberto Baccolo È stata una sorpresa Particolare Scoprirlo Così interessato A questo argomento Poi Alla storia La professoressa Bertazzoni Che conoscevo Già da tempo È stato veramente Un piacere Ascoltarla Nel suo approfondimento Quello che conta Appunto È aprirci Alla città Aprirci alle conoscenze Abbiamo scoperto Con grande piacere Che elementi Vogheresi Sono tante Sono fervide E sono attive La nostra sede è aperta Sottoponeteci Le vostre iniziative I vostri progetti Avremo ben piacere Di ospitarvi Per presentarli Come ben detto Sono otto eventi Non sono pochi Spaziano appunto Dall'alimentazione Vediamo All'educazione Dei giovani Non c'è Un filone Predestinato Da sviluppare Ma neanche L'obiettivo appunto È quello di abbracciare Tutti i lati Del sapere moderno Alla fine Un'ultima puntualizzazione L'evento più importante L'evento a cui abbiamo Ottenuto di più È stato quello Di accogliere Il giornalista Leo Sisti Una personalità Di eccellenza Nel giornalismo italiano E da quest'anno Anche internazionale Ci ha presentato Il suo progetto Come è stato svolto Con quale serietà Con quale attenzione Ha portato l'attenzione Della stampa internazionale Un argomento Come quello Dei Panama Papers Che insomma Riguarda La connessione Tra politica E alta finanza Speriamo appunto Di avere altre personalità Ci auguriamo Che Voghera Sappia produrre Altri personaggi Di questo livello Ma i presupposti Sono assolutamente positivi Grazie a tutti Grazie a tutti